Buonasera e bentrovati alla seconda edizione di G News. Nel 2011 accoltellò una donna che stava facendo footing in Pineta con l'obiettivo, dichiarato dopo l'arresto, di mangiarle i piedi. Una vicenda per la quale ieri mattina Luca Michelucci, operaio 24enne di Pineto, è stato assolto dal reato di tentativo di omicidio dal Tribunale di Teramo, in quanto incapace di intendere e volere al momento del fatto. Nella stessa udienza i giudici hanno disposto che per tre anni il giovane rimanga nella struttura psichiatrica protetta, dov'è già in cura. Cinque prostitute domiciliate tra San Benedetto del Tronto e Martinsicuro sono state denunciate dai carabinieri della stazione di Colonnella per Rissa. Tre lucciole romene e due albanesi se le sono date di santa ragione per il controllo del marciapiede, urla, schiaffi, tirate di capelli e quant'altro. Non sono passati inosservati ai passanti e agli automobilisti che attraversavano la strada provinciale 1 del Tronto, per cui hanno chiamato i carabinieri. I carabinieri hanno chiesto l'emissione del foglio di via obbligatorio a carico delle cinque prostitute. Ed ora nelle Marche. La Guardia di Finanza di Civitanova Marche ha sequestrato cinque immobili, disponibilità finanziarie, un'autovettura di interesse storico e altri beni per un totale di 3 milioni di euro. E' segnalato alla magistratura 31 persone per aver emesso fatture per operazioni inesistenti. L'operazione ha riguardato società del settore calzaturiero e del commercio di Pellame. La Guardia di Finanza regionale ha snocciolato il report delle attività 2014 in Abruzzo, soprattutto in merito ai reati tributari. Vediamo il servizio. 360 denunce di cui 5 è stato di arresto per i reati tributari con un ammontare di sequestri patrimoniali pari a 55.354.600 euro. E il bilancio dell'attività operativa svolta nel 2014 dai reparti del Corpo dell'Abruzzo della Guardia di Finanza, diretto dal generale Flavio Agnello. Le verifiche, i fini delle imposte dirette e altri tributari sono stati 1.089, i controlli fiscali 1.133, i controlli strumentali su strada 7.478, due casi scoperti per frodi all'IVA, sei quelli di fiscalità internazionale. Nel 2014 inoltre le fiamme gialle hanno scovato in Abruzzo 182 evasori totali e 40 paratotali. Le irregolarità riscontrate nel corso dei controlli strumentali ammontano al 18%. Per quanto riguarda il lavoro sommerso, la finanza ha scoperto 308 soggetti che prestavano la loro opera in nero, 43 i lavoratori irregolari e 144 i datori di lavoro che hanno utilizzato mano d'opera irregolare o in nero. Il contrasto all'evasione fiscale nelle sue molteplici e sempre più insidiose manifestazioni anche nel 2014 ha dunque costituito l'obiettivo primario dell'attività della Guardia di Finanza, unico organo di pulizia giudiziaria con competenze specialistiche in ambito tributario. Ed è stato finalizzato anche in Abruzzo al recupero dei tributi sottratti alle casse erariali, ma soprattutto ad arginare la diffusione dell'illegalità e dell'abusivismo nel sistema economico, a tutela delle imprese e dei professionisti che operano quotidianamente nel rispetto delle leggi, le cui prospettive di sviluppo sono seriamente limitate dalla concorrenza sleare di coloro che operano in nero. ...anni di Civitella del Tronto è stato denunciato per deposito incontrollato di rifiuti speciali pericolosi e non. In un appezzamento di terra a Favale di Civitella del Tronto l'Umo aveva creato un deposito di rottami di auto senza autorizzazione. Nell'area di circa 400 metri quadrati erano stati depositati pezzi di carrozzeria e lamiere, parti meccaniche ed altro materiale in maniera del tutto abusiva. Inneccendio di un'auto stamane verso le 4 a Torre dei Passeri. L'auto coinvolta è una Citroen C1 appartenente ad una fotografa di 35 anni del posto. Intervenuti sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Alanno e la compagnia dei carabinieri di Popoli. Ancora da chiarire le cause dell'incendio, se sia doloso o accidentale, indagano i carabinieri. Un'esplosione è avvenuta in un garage in Via Costa ad Ancona. Lo scoppio avrebbe provocato un ferito. Sul posto si sono portati quattro mezzi dei vigili del fuoco, l'automedica, l'ambulanza della Croce Gialla e una pattuglia della polizia. Sembra che l'esplosione sia avvenuta mentre il ferito stava aspirando carburante dal serbatoio di un gommone. E a Ripe di Civitella del Tronto è stato installato un sistema di monitoraggio elettronico da parte dell'Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica a circa un chilometro dalla frana. Una settimana, quella appena trascorsa, necessaria per il rodaggio dello strumento. Permangono tuttavia ancora molti problemi legati alla viabilità. Noi questa mattina abbiamo ascoltato il sindaco di Civitella del Tronto, Cristina Di Pietro. Allora, sulla frana di Ripe, da circa una settimana, qualche giorno in più, forse otto giorni, nove giorni, è stato posizionato un sistema di monitoraggio da parte dei ricercatori del CNR di Torino e di Perugia. Un sistema così strutturato, cioè ci sono dei prismi posizionati su tutta l'area della frana, ricordiamo che sono circa 12 ettari di frana, e poi c'è un'apparecchiatura che a una distanza di circa un chilometro e mezzo diciamo batte i punti su questi prismi. Questo sistema consente di verificare se la frana si muove e di quanto si muove. Il controllo viene fatto da remoto, viene fatto da Torino. Ci sono gli stessi ricercatori che hanno montato il sistema, che leggeranno questi dati e poi verranno immediatamente in tempo reale mandati a un comitato tecnico formato sul territorio composto da nostri tecnici, da tecnici della Regione Bruzzo, i quali poi attiveranno, diciamo, metteranno in campo i provvedimenti necessari a seconda appunto dei risultati. C'è stata questa prima settimana di rodaggio dell'apparecchiatura e da qualche giorno stanno effettuando le prime letture. La viabilità ha subito dei cambiamenti? La viabilità, allora, abbiamo insieme alla provincia ripristinato la strada di accesso al paese da sotto, diciamo, però l'SP53 risulta ancora fortissimamente compromessa, soprattutto nella parte alta, che ha dei distacchi di oltre 5 metri. Quindi è sicuramente un problema quello di Ripe, sul quale abbiamo adesso messo un, diciamo, abbiamo fatto un grande passo perché abbiamo individuato un sistema di monitoraggio che ci consente di adottare le misure di protezione civile necessarie a scongiurare il peggio. Però è anche vero che la situazione di Ripe è una situazione sulla quale gli organi competenti, le istituzioni competenti, la Regione e soprattutto lo Stato, devono farsi carico di investire delle somme importanti. Il capo del Dipartimento per le politiche di coesione istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Vincenzo Donato, ha comunicato oggi alla Regione Abruzzo il via libera dal governo. Ha 87 interventi di difesa del suolo per un ammontare complessivo di 28.851.000 euro. E sono stati affidati alla ditta Restaura SRL i lavori per la sistemazione idralica del fiume Tordino, nel territorio di Bellante, località Molino-Sannicola. Un intervento complessivo da 619.000 euro con lavori di cantiere per 457.000 euro. Proprio in quel tratto, nel 2013, in seguito all'ennesimo episodio di piogge torrenziali, si rischiò l'esondazione con una profonda erosione della sponda sinistra del fiume Tordino, tanto che fu necessario il monitoraggio della protezione civile. L'intervento prevede opere di ingegneria naturalistica con la realizzazione di gabbionate riempite di pietrame reperite prevalentemente in cantiere. Queste verranno posizionate a partire dalla sponda sinistra del torrente Ripattoni e proseguiranno lungo la sponda sinistra del Tordino. E' uno studio per il monitoraggio costante del fenomeno erosivo, piaga con la quale il litorale di Alba Adriatica, soprattutto quello nord, deve fare i conti. L'amministrazione comunale, diretta dal sindaco Tonia Piccioni, infatti, attraverso una determina dirigenziale, ha affidato un incarico tecnico finalizzato proprio a studiare il fenomeno erosivo. Dettato questo, che poi potrà essere utile per individuare forme di intervento successive per arginare e tamponare il fenomeno. Lo studio sarà redatto dal geologo Giovanni Marrone. Ed ora nelle Marche. Scusate, iniziativa sabato mattina del Movimento 5 Stelle Fermano, che nella sede di Via Vittorio Veneto ha organizzato una raccolta di firme per le candidature. Con l'occasione sono stati forniti il programma completo e il calendario degli incontri che i 5 Stelle terranno in ogni quartiere della città per raccogliere le istanze dei cittadini particolari nel servizio. Uno dei motti che da sempre ci contraddistinguono è che nessuno deve rimanere indietro. Quindi in base a questo spirito, questo spirito guida ogni nostra azione. Quindi ogni essere umano è importante, i diritti di ogni persona vanno tutelati ed è anche per questo che a livello nazionale abbiamo proposto la legge sul reddito di cittadinanza. Nella regione di che cosa c'è bisogno in particolare? Quali sono le priorità secondo il Movimento 5 Stelle? Prima di tutto il lavoro. Le marche soprattutto e anche più di altre regioni italiane hanno subito le conseguenze della crisi proprio perché il tessuto connettivo è fatto da piccole, piccolissime, qualche media impresa e sono state quelle le più colpite dalla crisi e anche dall'eccessiva tassazione che il governo italiano impone agli operatori del settore. Si potrebbe creare lavoro nelle marche, tanto lavoro, rivalutando il manifatturiero d'eccellenza. Noi abbiamo il distretto del Cappello che produce l'80% della produzione mondiale del Cappello. È un distretto importantissimo e sta morendo a causa della difficoltà di accesso al credito, della concorrenza della manifattura straniera e anche non ultimo dell'embargo alla Russia. Infatti noi in Europa ci siamo opposti a questo embargo. Il lavoro si può creare anche con una grande risorsa che noi abbiamo, il nostro territorio, la nostra cultura, la nostra arte che assolutamente è sottovalutata. Pochissimi per esempio sanno che nella Pinacoteca di Fermo c'è una meravigliosa natività del Rubens. A Monte Rinaldo per esempio c'è un tempio ellenistico romano del secondo secolo avanti Cristo completamente restaurato ma quasi sempre chiuso. Nel nostro programma il turismo è la locomotiva della regione Marche. Un bel gruppo di cittadini ha salutato l'apertura della sede della lista civica Piazza Pulita con Paolo Calcinaro candidato sindaco. C'è anche una seconda lista a sostegno di Calcinaro con l'ex consigliere Massucci. È l'entusiasmo l'elemento distintivo di questa lista come ci ha spiegato l'altro candidato a consigliere comunale Francesco Trasatti. Vediamo. Tanta gente si è avvicinata spontaneamente su questa proposta che con Paolo è venuta fuori sulla base di un'esperienza già fatta nella precedente amministrazione sull'idea di non sottostare a logiche di partito ma pensare esclusivamente al bene della città. Gente nuova, gente che non proviene da vecchie esperienze e che si mette a servizio della propria comunità. Lo fa con spirito di entusiasmo, col sorriso sulle labbra e con la voglia di fare Piazza Pulita ma Piazza Pulita nel senso di mettere a disposizione un entusiasmo, un'energia, una purezza che forse in questa città manca da tempo. Di cosa bisogna, Fermo? Di credere in se stessa e di ascoltare le tante energie e le tante vivacità di cui è ricca. Noi nel nostro piccolo, con umiltà, penso all'esperienza mia di Paolo nella scorsa amministrazione ma devo dire non solo la nostra e quindi non voglio essere esclusivo in questo senso ci abbiamo provato, abbiamo cercato di dare voce all'associazionismo, alle contrade, alle società sportive, alla gente, ai quartieri. Credo che questo sia importante. Non si può governare in modo cattedratico, bisogna cercare di fare lo sforzo di cucire e insieme trovare le soluzioni. Chiaramente questo presuppone anche da parte della gente uno scatto di essere parte in causa nel trovare le soluzioni e non solo nella polemica di vedere sempre il bicchiere mezzo vuoto. È uno sforzo, un impegno che noi di Piazza Pulita vogliamo prendere con i cittadini. Non costituisce oggetto dell'agenda politica regionale il taglio del pronto soccorso dei punti di primo intervento. Semmai si intende investire nelle reti di emergenza urgenza, soprattutto nelle aree interne d'Abruzzo. Lo dichiarano il consigliere regionale Maurizio Di Nicola, segretario della quinta commissione consigliare e l'assessore regionale alla salute Silvio Paolucci. Gli investimenti riguardano i 10 milioni di euro per nuove postazioni del 118, i 10 milioni già investiti sui servizi di tele e medicina, più la dotazione di un defibrillatore per ogni comune della regione, rilevano ancora Di Nicola e Paolucci. E il comune di Campli presenta dei suggestivi itinerari virtuali in HD, alla scoperta della storia e delle bellezze del territorio. Si tratta di tre video promozionali realizzati dal consorzio Punto Europa Teramo nell'ambito del progetto comunitario ERA, finalizzato a promuovere un nuovo modello di turismo sostenibile nel bacino adriatico. Questi video, realizzati in alta definizione con le più moderne tecnologie, commenta il sindaco Pietro Quaresimale, e già veicolati su canali social e YouTube, diventano strumenti preziosi per la promozione del grande patrimonio naturalistico, storico e culturale del territorio camplese e teramano. Questi prodotti andranno a valorizzare il nostro potenziale di attrazione dei flussi turistici internazionali grazie alla presentazione alle più rilevanti fiere, a partire dall'Expo. E weekend a Torano Nuovo con il terzo Biofestival di Primavera. Ascoltiamo i particolari nel servizio. Sabato e domenica a Torano Nuovo torna il Biofestival di Primavera, giunto alla sua terza edizione. Sì, quest'anno il Biofestival l'abbiamo anticipato, che solitamente si svolge durante i mesi invernali, invece l'abbiamo fatto a primavera per la maggior ripelità dei prodotti sul territorio. Ci sarà il mercato di prodotti biologici, laboratori didattici, tante attività? Sì, iniziamo il sabato con i laboratori didattici per i bambini, che potranno sperimentare con loro umani l'olio, la farina, prodotti biologici. In più, lì alla piazza ci sarà un percorso di degustazione di prodotti biologici, organizzati dal GAL di Teramo. Sulle vie del centro storico abbiamo il mercatino di prodotti biologici e a Largo San Flaviano, la nostra piazzetta, anche lì è un percorso di degustazione di vini biologici. La domenica, sempre degustazione di prodotti biologici, il mercatino, e in più abbiamo le cantine sulla piazzetta che proporranno i loro prodotti. La domenica, nel tardi pomeriggio, ci sarà un concerto con una cover band di Carlos Santana e naturalmente chi vuole può degustare i prodotti biologici nei vari ristoranti del paese. L'evento inizierà già dalla mattinata di sabato? La mattinata di sabato, l'inaugurazione. Naturalmente a tutte queste manifestazioni ci saranno pure degli incontri, dibattiti con degli illustri personaggi che parleranno del biologico. L'urna con le spoglie mortali di San Gabriele e della Dolorata da giovedì a sabato compirà un pellegrinaggio a Teramo e Atri, visitando le parrocchie a lui dedicate nelle due città. Il programma del pellegrinaggio prevede l'arrivo dell'urna giovedì 16 aprile alle ore 17.30 nella parrocchia di San Gabriele a Colleparco di Teramo. Qui, dopo l'accoglienza ufficiale, il Vescovo di Teramo Atri, Monsignor Michele Seccia, celebrerà la Santa Messa a cui seguirà una veglia di preghiera. Oltre 4.000 volontari, 220 associazioni iscritte, di cui 160 convenzionate e distribuite in 100 comuni, più di 200 mezzi sono i numeri della protezione civile regionale che si presenterà al pubblico sabato 18 aprile alle ore 10 a Pescara nella prima edizione della manifestazione intitolata I migliori di tutti noi, giornata regionale del volontariato di protezione civile organizzata dalla regione Abruzzo e dalla stessa struttura di soccorso. Ospite d'onore della giornata sarà il nuovo capo dipartimento della protezione civile nazionale Fabrizio Curcio nominato dal governo Renzi lo scorso 3 aprile. Le meraviglie del mare d'Abruzzo nella puntata di Linea Blu che andrà in onda sabato 25 alle 14.30 su Rai 1. In particolare il programma condotto da Donatella Bianchi si soffermerà sul progetto Bike to Cost che punta a realizzare lungo i 131 km della costa abruzzese la pista ciclo pedonale più estesa d'Italia. Una mostra sullo spiaggiamento dello scorso settembre di 7 Capidogli a Vasto di cui 4 restituiti al mare. Resterà aperta fino al 18 aprile nella saletta Mattioli a Vasto. L'episodio registrò la collaborazione di molti volontari che si misero a disposizione per salvare i cetaci. La mostra è un momento di riflessione sulla natura del nostro modello di sviluppo dice il presidente dell'associazione che organizza la mostra, Patrizia. Ed ora è arrivato il momento delle previsioni meteo e a seguire la pagina sportiva. Buonasera e ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con le previsioni meteo a cura dell'Istituto Aeronautico Antonio Locatelli. Diamo lo sguardo al grafico che ci mostra la panoramica generale per quanto riguarda l'aprile italiano. Come vediamo, ancora giornata soleggiata pressoché ovunque con velature in veloce transito sull'arco alpino e sui rilievi appenninici così come nelle regioni più meridionali. Scendiamo in Italia e vediamo la previsione per quanto riguarda Marche e Abruzzo, situazione conforme alla macroregione del centro Italia. Giornata soleggiata pressoché ovunque con venti deboli e mari davvero calmi. Le temperature massime previste oscilleranno tra 21 e 24 gradi. Vi ringraziamo per la cortese attenzione e da Mettero Caselli è tutto. Al prossimo appuntamento. La questura di Teramo comunica che i biglietti per assistere all'incontro di calcio Prato-Teramo in programma domenica 19 aprile alle ore 14.30 a Prato sono posti in vendita tramite il circuito Booking Show. Il Tribunale federale nazionale sezione disciplinare ha inflitto quattro punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva al Monza e disposto rispettivamente l'applicazione della sanzione di due punti di penalizzazione al Savona e un punto di penalizzazione all'Anversa Normanna sanzionando con inibizione di tre mesi il legale rappresentante pro tempore della società Giovanni Spezzaferri. Nel girone B il Savona scende a 33 e ha soli quattro punti dal fanalino di coda San Marino. E sono stati resi noti i provvedimenti disciplinari in Lega Pro relativamente al girone B il giudice sportivo ha squalificato per due turni Andrea Pastore del Forlì un turno di stop per Andrea Mengoni dell'Ascoli Francesco Colombini, Tutto Cuoio Eddie Gagnore, Carrarese, Alessandro Videtta, Ponte d'Era Giacomo Pettarin, Forlì, Manuele Lazzari Spall Luca Magnanelli del San Marino Simone Della Latta del Grosseto Nicola Mingazzini della Lucchese Evan Soligo San Marino e Max Taddei del Savona E lutto in casa Santomero formazione che milita nel girone ha di promozione nelle ultime ore è venuto a mancare Ennio Biancucci, padre di Costantino presidente della Palmenze l'uomo era malato da tempo al presidente Biancucci le condoglianze della proprietà e di tutta la redazione di Super J in promozione Abruzzo il derby tra la Palmenze Santomero e Controguerra finisce con la vittoria della squadra di Nardini delusione per i biancazzurri di Cipolletti i particolari nel servizio Stranezze del calcio quelle che disegnano un derby tra Controguerra e Santomero emozionante e ricco di colpi di scena quelle stesse stranezze sulle quali Santomero inciampa dopo sei vittorie consecutive e con il rischio ora di perdere anche il treno dei playoff a far festa sul neutro di Sant'Egidio l'indobito Controguerra capace tra andate e ritorno di battere per due volte la Palmenze Rossoverdi che nel finale di gara trovano due reti per operare il clamoroso sorpasso derby ricco di emozioni come detto ed anche con un pizzico di sano nervosismo il Santomero orfano di Seccal volato in Marocco dalla famiglia parte meglio e al nono crea le premesse per il vantaggio Pezzoli dialoga con Di Blacio in qualche modo contenuto da Spinelli e conclude sull'esterno della rete la scuola di Nardini al contrario alla prima accelerazione passa verticalizzazione per Stefano Maurizi che scatta sul filo del fuorigioco elude l'uscita di Aiubi e mette dentro il Santomero è colpito nell'orgoglio e fatica nel reagire anche perché poco dopo i biancazzurri restano in dieci Capretti colpisce a gioco fermo l'autore del gol e finisce sotto la doccia la ripresa invece mette in scena tutto l'imponderabile del calcio il Santomero nonostante l'inferiorità numerica rientra in campo con straordinaria determinazione mentre il controguerra segna il passo il pari è quasi immediato al terzo Pezzoli si guadagna una punizione poi la trasforma con un tocco morbido che si spegne alla sinistra di Spinelli in campo c'è solo la squadra di Cipolletti al quinto Palma conclude a botta sicura Spinelli si salva in qualche maniera altri quattro minuti gli ospiti confezionano il sorpasso Di Blasio sprinta sull'auto di sinistra entra in area e poi disegna un destro a giro che non dà scampo a Spinelli il controguerra è come un pugile suonato mentre la Palmenza è imperversa ancora Di Blasio al dodicesimo conclude in porta sulla linea salva Pietrucci mentre Pezzoli sfiora di un nulla il 3 a 1 con un diagonale ravvicinato la squadra di Nardini che nonostante tutto riesce a limitare i danni nel momento di maggiore pressione degli avversari lentamente prova a ridestarsi dal torpore prima di farlo però ci vuole un'espulsione Gridelli va fuori per un doppio giallo e un paio di cambi in corso operati da Nardini che risultano poi decisivi Stefano Pietrucci al 33esimo centra la base del palo con un destro a giro è il segnale per i locali che in due minuti operano l'allungo decisivo minuto 36 Vagnoni da poco entrato conclude dalla distanza il tiro non sembra avere grandi pretese in realtà Iubi lo vede tardi e la sfera si insacca altri due giri di lancette tocca al capitano Stefano Pietrucci sorprendere il portiere avversario sempre dalla distanza gara finita? in pratica sì il Santomero è fiaccato non tanto nelle energie ma nella testa mentre il controguerra in pieno recupero sfiora il poker questa volta Iubi è decisivo nella deviazione a fine gare i rossoverdi fanno festa il Santomero invece si lecca le ferite e guarda al prossimo incontro se il torneo fosse finito ieri la squadra dei cipolletti sarebbe fuori dai playoff visto il distacco di 10 punti dal Ponte Vomano a soli 90 minuti dal termine del campionato arriva la clamorosa svolta sulla panchina dell'atletico Piceno sarà Peppino Amadio a guidare la squadra nell'ultima di campionato nella difficile trasferta di Treia contro l'Aurora e nelle eventuali gare di playoff nel caso la squadra non vincesse il campionato in uno stringato comunicato ufficiale emesso nel tardo pomeriggio di ieri la dirigenza ha confermato l'interruzione del rapporto e prosegue senza soste la marcia della squadra femminile del Castelnuovo assoluta protagonista in Serie C dove a una sola giornata dal termine è prima con tre punti di vantaggio sul Pescara dopo aver ottenuto 18 vittorie ed un solo pareggio e potendo contare anche sul miglior attacco e la miglior difesa del campionato ora l'ultimo ostacolo verso la Serie B è lo scontro diretto dell'ultima giornata nel quale basterà un pareggio per esultare e mister Adamo De Santis rende onore alla sua giovanissima squadra siamo una squadra giovanissima solo tre maggiorenni in rosa e le altre tutte nate tra il 1997 e il 2001 e questo rende ancora più merito alla qualità delle mie ragazze e si è svolto domenica 12 aprile al Pala Santa Maria di Pineto il campionato regionale di ginnastica ritmica del CSI Abruzzo nella nuova location scelta per l'atto conclusivo della stagione regionale dopo che negli ultimi passati la Kermess si era svolta ad Alba Adriatica in Mociano Sant'Angelo si sono esibite le migliori atlete del movimento arancio blu grande entusiasmo da parte delle giovani rappresentanti della disciplina che hanno dato il meglio di loro stesse davanti al presidente regionale Angelo De Marcellis e alla responsabile tecnica Licia Carminucci presenti anche le istituzioni locali in particolar modo il sindaco di Pineto Robert Verrocchio la stagione agonistica però non si è conclusa con la finale regionale infatti le ragazze che si sono classificate parteciperanno alle finali nazionali che si terranno all'Ignano San Biadoro dal 20 al 24 maggio rappresentando l'intero movimento abruzzese ebbene questa era la nostra ultima notizia io vi ringrazio per l'attenzione auguro a tutti un buon proseguimento di serata e vi lascio all'appuntamento con G News Piceno